questo qui è l'acqua che viene sotto dall'istituzione ecco e adesso dobbiamo andare guarda che bello guarda che bello sono due in caglia guarda che bello mi lascia da solo papà in una zona nuova ci sono dei ragazzi accampati guardate che spettacolo come scende tutta omogenea in tutta la canalina cosa volete di più ci abbiamo un operaio qua si chiama dragonfly lavoro per te è sempre il doppio che avrai in bicicletta non ci andrai e che cazzo sempre se si trova loro però se non lo trovi altro che bicicletta questo è il movimento giusto che deve fare la tramoggia e poi la si regola in base al tempo che necessita in base al tempo del trasporto queste sono le corna di giorgio qua di spazzatura non ce n'è non ci sono le corna di giorgio noi